E' definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Salvatore Parolisi, l'ex caporal maggiore dell'esercito ritenuto responsabile dell'omicidio della moglie, Melania Rea, avvenuto nell'aprile del 2011. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Parolisi contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia del 27 maggio dello scorso anno. La donna fu uccisa con 35 coltellate, era scomparsa sul colle San Marco di Ascoli Piceno mentre si trovava con il marito e la figlia. Il corpo venne ritrovato due giorni dopo. Secondo l'accusa Parolisi aveva un amante e Melania non accettava di separarsi.